Buongiorno a tutti, continuano le novità in materia di assunzione del personale della scuola perché dopo le assunzioni sui posti di quota 100 che hanno previsto questo reclutamento in via prioritaria rispetto alle nuove operazioni per il nuovo anno scolastico e l'introduzione del meccanismo della cosiddetta call veloce che vedremo come in via concreta sarà applicata per le prossime operazioni in missione e volo arriva a momenti un'altra novità nel sistema di reclutamento. Infatti il legislatore con il decreto legge 126 2019 come modificato dalla legge 159 2019 ha previsto un meccanismo tendente a bilanciare le esigenze dei docenti che avevano partecipato al concorso a cattedre del 2016 sia per la scuola dell'infanzia e primaria che per la secondaria con il meccanismo di concorsi che era stato bandito successivamente. Infatti le graduatorie del 2016 naturalmente sarebbero andate a scadere prima nel 2020 e adesso prorogate nel 2021 e per dare una chance in più ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie ma ancora non reclutati il legislatore ha previsto un escamotage. E' stata infatti prevista la possibilità per questo personale inserito nelle graduatorie del 2016 di presentare la domanda per l'inserimento in una fascia aggiuntiva alle graduatorie dei concorsi svolti nel 2018. In particolare questi docenti inseriti nelle graduatorie del 2016 potranno essere inseriti a domanda in una graduatoria aggiuntiva del graduatore del concorso straordinario di scuola dell'infanzia e primaria svolto nel 2018 e nel concorso di scuola secondaria di cui ha il DG85 del 2018. Questo per consentirgli la possibilità di essere comunque reclutati anche oltre la scadenza di valita delle graduatorie del 2016. Si tratta sostanzialmente, facendo un parallelismo, della costituzione di code rispetto alle graduatorie del concorso 2018 e parlando di code sicuramente salta la memoria alle code istituite, alle graduatorie permanenti, alle graduatorie di esaurimento che non hanno avuto tantissima fortuna visto che nel 2011 la Corte Costituzionale le dichiarò costituzionalmente illegittime. A giorni dovrà quindi essere emanato il decreto attuativo per l'inserimento nella fascia aggiuntiva e vedremo quindi in concreto come e quando potranno essere presentate le relative domande. Grazie e arrivederci.